Allora signori buongiorno a tutti, buongiorno, diciamo un piatto di buon pomeriggio perché sono le due praticamente, oggi ho detto oggi provarò in questo spot, è un po' riparato dal vento, è uno spot pieno di ure ragazzi, però la sorpresa ci può sempre stare, ancora in testa arrivano, al momento arrivano delle raffiche diventano abbastanza importanti, non è perfetto, però voglio provare due o tre ore, la sorpresa può essere sempre dietro l'anno ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti